Oh, è il mio cagnetto, è la prima sua esperienza sul divano, io non la volevo sul divano sinceramente, però poi ho fatto gli occhietti dolci ed ero così tenera, allora poi gli ho detto di fare sit e vi dico, c'è un pari sul, no un sul divano, vabbè sì, ho aiutato oddio i miei occhietti, cioè mi sta distruggendo il divano e tutte le cose sul divano, ma guarda la chiepile, guarda la chiepile, cosa c'è che non va con quella? Guarda la chiepile che sei simpio, che è una tubina bellissima, oh che carina, cioè vai pazzesco, mangia qualsiasi, mangia qualsiasi, dov'è il tuo giochino? Il tuo giochino è qua, il tuo giochino è qua, che bella è lei, che bella è lei. E vedi, è troppo di, è troppo tenerotta, troppo di pulci, varie, che bella è la mia tenerotta, che bella è la mia tenerotta, che bella è lei, che bella è lei. Cos'è c'è? Cuocchi? 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 Lo sapevo, lo sapevo, che ne vado a dire, è una cosa tremenda, è una cosa tremenda. Scusate, ma è troppo, guarda la chiepile, è una cosa tremenda, è una cosa tremenda, è una cosa tremenda. Così, 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 decidiamo fare la bling bling. Un saluto da Virginia e Sunny, Sunny, oh sì!